Era improponibile chiederci di scaricare Adriana Polibortone rispetto al quadro di partenza. Il commissario di Forza Italia Vitali ribadisce quello che aveva detto un minuto prima di mettere piede sul tavolo dell'unità, un dietrofronte rispetto alla promessa della notte di puntare all'unità ad ogni costo. La Polibortone non poteva essere in discussione. Ieri abbiamo fatto una lunga riunione dove siamo rimasti sulle nostre posizioni, Polibortone per noi, Schittulli per gli altri amici. Oggi chiaramente abbiamo cercato di fare un passo avanti, ma il passo avanti si fa con Polibortone. Tutte le altre condizioni per noi sono accettabili, ma non quelle di togliere dal tavolo la Polibortone. Vitali non dà colpe sull'epilogo della vicenda, ma chiarisce altri passaggi chiave, decretando la fine delle trattative. Schittulli il centrodestra unito ce l'ha avuto e lo ha rotto. La Polibortone era la candidata, ha idea la candidata che sta cercando e vuole ancora cercare di unire il centrodestra. Ormai il tempo è scaduto e forse questi incontri abbiamo dovuto farli qualche settimana fa.